Buongiorno, oggi è sabato del 25 febbraio del 2017 e volevo condividere con voi qualcosa dal Vangelo di Luca e non solo, qualcosa che sono convinto sarà di grande beneficio, di grande aiuto che comunicherà tanta speranza alle persone che ascoltano e guardano, è scritto in Luca, in Luca al capitolo 3 al versetto 21 a 22 dice così, ora dopo che tutto il popolo era battezzato, anche Gesù fu battezzato e mentre stava pregando il cielo si aprì e lo Spirito Santo scese sopra di lui in forma corporea come a di colomba e dal cielo venne una voce che diceva tu sei il mio amato figlio, in te io mi sono compiaciuto, è bellissimo vedere come il Vangelo è talmente chiaro, è talmente cristallino in alcuni concetti dove non ci lascia ombra di dubbio, non ci porta in confusione la Bibbia dice che quando Gesù uscì fuori dall'acqua mentre stava pregando il cielo si aprì e noi vediamo da questo momento in poi che i cieli non si sono mai più chiusi, a volte io sento insegnamenti, ho visto alcuni video dove viene inculcato alle persone di pregare affinché si aprano i cieli sopra la città, sopra la nazione, in maniera particolare sopra la tua vita, dobbiamo pregare, dobbiamo intercedere, dobbiamo combattere, dobbiamo fare chissà che cosa perché questi cieli si possano aprire e non ci rendiamo conto che nel Nuovo Testamento in realtà in tutto il Nuovo Testamento si parla del fatto che i cieli sono già aperti e che non si devono aprire, del resto la tua e la mia preghiera non hanno questa autorità perché i cieli sono stati aperti da Gesù e da quando i cieli si sono aperti non si sono mai più chiusi, guardate cosa è scritto in Giovanni al capitolo 1 dopo che Gesù incontra Natanaele e Natanaele riconosce chi è davanti, riconosce che Gesù è il Messia, il figlio di Dio e Gesù gli risponde, gli dice perché ti ho detto di averti visto sotto il fico tu credi, tu vedrai cose maggiori di queste, guardate qui al versetto 51 di Giovanni 1 dice e poi disse in verità in verità io vi dico che da ora in poi voi vedrete il cielo aperto e gli angeli di Dio salire e scendere sopra il figlio dell'uomo, noi vediamo addirittura anche in atti degli apostoli, non so se vi ricordate l'episodio quando Stefano sta per essere lapidato, Stefano è il diacono e dice qua in atti 7.55 egli ripieno di spirito santo, fissati gli occhi al cielo vide la gloria di Dio e Gesù che stava alla destra di Dio e disse ecco io vedo i cieli aperti e il figlio dell'uomo che sta alla destra di Dio, anche postolo Pietro fece questa esperienza mentre stava pregando, scritto in atti al capitolo 10 dice Pietro salì, il giorno seguente mentre essero in cammino si avvicinano alla città Pietro salì sul terrazzo della casa verso l'ora sesta, era mezzogiorno per pregare o gli venne fame e desiderava prendere cibo e mentre quelli di casa glielo preparavano fu rapito in estasi e vide il cielo aperto e scendere verso di lui un oggetto simile a un gran lenzuolo e qualcuno scherzando disse che Pietro vide i cieli aperti perché aveva fame e quindi vide il cibo che scendeva dall'alto perché aveva una fame incredibile a parte le battute un po' stupide. Il concetto che dobbiamo pregare per aprire i cieli è qualcosa che riguarda purtroppo la religiosità, la mente chiusa delle persone che si concentrano continuamente sul fatto che i loro sforzi possono produrre qualcosa, che i loro sforzi possono produrre un cambiamento in Dio come se dovessimo convincere Dio, come se le nostre preghiere, i nostri digiuri, i nostri sforzi dovessero convincere Dio a farci del bene. I cieli sono stati aperti duemila anni fa e dal momento in cui si sono aperti non si sono mai più chiusi e questa è una bella notizia per ognuno di noi e io voglio che tu sappia in questo giorno che i cieli sono aperti sopra di te, i cieli sono aperti sopra la tua vita. C'è un versetto vorrei concludere con questo, scritto in Deuteronomio 28 riguarda proprio la legge e questo era il modo come il popolo israele viveva a quel tempo, la benedizione dipendeva dall'ubbidienza del popolo ed è scritto qua il versetto Deuteronomio 28, versetto 12. L'Eterno aprirà per te il suo buon tesoro, il cielo per dare alla tua terra la pioggia suo tempo per benedire tutta l'opera delle tue mani, tu presterai a molte nazioni ma non prenderai nulla in prestito a quel tempo durante la legge la benedizione dipendeva dall'ubbidienza del popolo. Nel nuovo testamento la benedizione di Dio sopra le nostre vite non dipende dalla nostra obbedienza ma dall'obbedienza di Cristo Cristo ha obbedito per ognuno di noi e attraverso la sua obbedienza i cieli si sono aperti e non si sono mai più chiusi ed ecco perché Paolo può scrivere in Efesini 1 al versetto 3 dice qua questo versetto famosissimo dovremmo imparare tutte a memoria benedettosi a Dio padre del nostro signore Gesù Cristo il quale ci ha già benedetti con ogni benedizione spirituale celeste in Cristo Gesù la benedizione in Cristo i cieli aperti sono aperti a causa di Cristo e della sua obbedienza quindi noi abbiamo bisogno di credere in Gesù perché la grazia di Dio è disponibile per ogni essere umano che vive sulla faccia della terra ma i benefici di questa grazia il realizzare la benedizione di Dio realizzare le promesse di Dio nella nostra vita ha a che fare col fatto se noi ci crediamo oppure no Dio non crederà al tuo posto noi crediamo e noi realizziamo la fede prende ciò che la grazia di Dio ha già ricevuto la fede non può produrre qualcosa la fede semplicemente prende sia propria di ciò che è nostro di diritto e questo è un diritto che appartiene ad ogni essere umano credere in Gesù ti permette di passare attraverso quella porta e realizzare la benedizione del regno di Dio nella tua vita quindi smettila di credere che attraverso i tuoi sforzi Dio possa cambiare idea perché è Dio che sta cercando di convincere te con me di farci cambiare idea e comprendere realizzare una volta e per sempre che lui ci ama e che la sua benedizione sopra la nostra vita ed è disponibile per ogni essere umano ecco perché dobbiamo andare a predicare il Vangelo ad ogni persona affinché ogni persona possa realizzare la benedizione del regno di Dio nella sua vita ricordati il cielo è aperto sopra di te e tu sei stato benedetto di ogni benedizione spirituale non chiedere al padre una benedizione che già ti ha dato semplicemente vattela a prendere realizzare non chiedere credi e ringrazia credi e ringrazia e realizza tutto quello che Dio ha preparato per te tutto quello che è il padre perché la cosa più importante per noi è che dobbiamo cambiare la nostra mentalità noi non possiamo vivere nel regno di Dio pensando con la nostra mente con i nostri pensieri noi dobbiamo agire secondo dei principi chiari che riguardano la fede che riguardano la grazia ma non possiamo vivere il regno di Dio con il nostro modo di pensare dobbiamo cambiare il nostro modo di pensare dobbiamo cambiare mentalità dobbiamo ravvederci nel senso di cambiare mentalità e appropriarci della mentalità del regno di Dio in questo modo potremmo vivere e godere di tutti i benefici che il padre ha dato e ha messo a disposizione a ogni essere umano quindi non esiste una casta non esistono dei VIP non esistono persone più importanti di altre è una benedizione disponibile per ogni essere umano sulla faccia della terra buona giornata sotto dei cieli aperti e con delle benedizioni preparate prima della fondazione del mondo ciao